Per realizzare effetto mosaico, stendere canal grande granito grigio sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo in acciaio, dopo aver preventivamente posato a secco una rete con maglia da un centimetro. Prima che il prodotto sia totalmente asciutto, lisciarlo con spatola in acciaio per rendere la superficie liscia e lasciare intravedere la rete che aiuta nella stesura del giusto spessore di materiale e in modo da far risaltare i cristalli lucenti. Per evitare la formazione di giunture, lavorare su superfici continue, sempre con il prodotto bagnato su bagnato. A prodotto perfettamente essiccato, procedere con una decorazione che più si avvicini ad un mosaico antico, utilizzando prodotti decorativi a pennello, preferibilmente che lavorino in trasparenza, come velature o perlaceo o ABC riflessi. Preferire prodotti come Easy Metal o Cadoro per una maggior copertura. Al termine della decorazione e solo dopo perfetta essiccazione, rimuovere la rete precedentemente posizionata, così da far risaltare l'effetto mosaico. Non attendere più di un giorno tra la stesura del fondo e la rimozione della rete. Si consiglia l'applicazione del protettivo idrodiluibile DecorFilm Lucido, codice 3740230, per aumentare la resistenza alla rigatura e l'effetto mosaico antico. Al prossimo episodio